Una saccatura è in fase di approfondimento sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, ciò favorirà l'ingresso di perturbazioni atlantiche sulla nostra penisola. In Toscana, mercoledì 22 novembre, molto nuvoloso in mattinata, con residui e piogge sulle zone orientali, schiarite dal pomeriggio, soprattutto sui settori occidentali, venti moderati o forti di grecale, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo, temperature in calo. Sul territorio provinciale da coperto fino a sereno, in serata, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 10, massima 15 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 7, massima 13, a Viareggio e sul litorale, minima 12, massima 15 gradi, giovedì cielo sereno, localmente velato. Grazie a tutti!